No allo spreco alimentare. È con questo slogan che venerdì 9 e sabato 10 settembre torna San Zeno Open Plant, una a due giorni all'interno dell'area verde di San Zeno, animata da laboratori, seminari e giardinaggio, uniti da un unico filo conduttore. Attenzione allo spreco, riduzione dei rifiuti e riciclo. Questo è il percorso che stiamo facendo, quello di coinvolgere sempre più la popolazione, i cittadini, su questo percorso di recupero della materia che viene gettata come rifiuto e in particolare per la sua riduzione a monte e per una corretta gestione, perché solo recuperando tutta quella parte di materia che si può recuperare che si ottiene un ottimo risultato. L'impianto di San Zeno, secondo la nostra visione, non è soltanto un luogo dove si trattano i rifiuti, ma sta diventando anche un luogo dove ovviamente si fa formazione, si fa cultura e si cerca di educare e formare in tema ambientale. Una manifestazione che si rinnova quest'anno anche alla luce della legge sullo spreco alimentare di recente approvazione. Se riusciamo a indirizzare bene quello che avanza, specialmente dalle menze, da alcuni ristoranti, da alcune situazioni dove ancora più che nella famiglia stessa c'è una situazione di spreco e riusciamo a, intanto a far passare il concetto bisogna sprecare meno, e poi quello che invece viene purtroppo sprecato per eccedenza di produzione, utilizzato a fini benefici, a fini solidarie. Ed è all'interno del San Zeno Pen Plant che si inserisce la terza edizione di Warhouse Decibel Festival, la kermesse nata sotto il segno della diversità musicale, che porterà sul palco alcuni tra i migliori gruppi emergenti locali, provinciali e regionali assieme ad ospiti di spicco del panorama nazionale ed internazionale. I nomi delle band vanno da una ricerca nostra sul territorio, dei talenti emergenti, di tutte quelle band che durante l'anno fanno iniziative, una serie di percorsi musicali, e poi ospiti internazionali, in particolare Black Leap, che è una band americana famosissima da oltreoceano e viene in Italia per tre sole date, la nostra è l'unica gratuita che sarà possibile vedere e ascoltare il concerto a livello italiano.